Alla fine ci sono stati anche le occasioni per vincerla questa gara, però la sensazione è che soprattutto nel primo tempo e inizio di presa la Fidelis ha sofferto questa Palmesa. Sì, abbiamo sofferto perché loro si chiudevano bene 4-5-1, poi ripartivano bene. Noi abbiamo avuto la frenesia nel primo tempo di voler trovare subito delle situazioni che ci portavano alla finalizzazione, cosa che contro una squadra che si difende in quel modo con 9 persone sotto linea a palla non è facile, quindi poi meglio, molto meglio il secondo tempo, ma soprattutto abbiamo alzato il livello agonistico che forse era quello che al primo tempo non abbiamo messo proprio tanta furia agonistica che invece dovevamo avere, però questa è una considerazione mia personale, però sì, potevamo pure vincerla, però forse andavamo, meritavamo il risultato quello che sia giusto. C'è qualche scelta di inizio gara che non rifarebbe? No, no, assolutamente le scelte di inizio gara erano quelle che ci permettevano di avere un atteggiamento propositivo con tanta gente nella metà campo avversario e quindi andava bene, non è quello che non andava, è probabilmente una gestione della palla che volevamo, ripeto, volevamo subito trovare la soluzione migliore, che non è facile trovare la soluzione migliore quando i spazi sono coperti da 9 persone in 60 metri, quindi questa è l'unica cosa che oggi posso impreverare la squadra e poi dobbiamo essere un pochettino meno frenetici. In campionato oggi è però un'occasione persa invece? Sì, sì, guardiamo la classifica, però l'ho detto in conferenza stampa, questo è un campionato dove bisogna prendere per buono tutto quello che arriva. Certo ogni volta vorremmo vincere, tutti quanti vorrebbero vincere, basta vedere i risultati odierni, quindi bisogna raccogliere quanto più possibile, poi ho detto a fine anno uno traccia una linea e vede dove arriva, però bisogna raccogliere tutto, adesso non bisogna pensare che questi siano due punti persi, che esattamente sono due punti persi, adesso come la pensiamo, probabilmente la pensiamo tutti in questo modo, però intanto ci teniamo a mostrare di questo punto, non si sa mai che ci potrà sicuramente servire, ci dà un pochettino di continuità rispetto alla partita di mercoledì, ci dà la possibilità di lavorare non al meglio, perché stasettimana abbiamo anche l'impegno di Coppa, che è comunque un impegno a cui noi ci teniamo, e quindi questa è la mia considerazione. Per chiudere, Coppa, campionato, tanti impegni, adesso insomma mercoledì la Cavese, poi il ritorno a Lua degli Olivi nuovamente contro il Casarano, come affrontare questi impegni ravvicinati comunque così importanti? No, li affrontiamo con la massima determinazione, perché poi è il massimo rispetto di tutte le competizioni, siamo arrivati fino a qui in Coppa, è giusto che cerchiamo in tutti i modi di onorare l'impegno e cercare di prenderci questa qualificazione. Allo stesso tempo prepariamo anche la gara di domenica con il Casarano, che è un altro impegno, alla pari di tutti gli impegni di campionato sono tutti impegni difficilissimi.